. Giovanni Allevi torna e porta il suo magico Equilibrium Giovanni Allevi torna sulla scena discografica con Equilibrium, il nuovo album, in doppio CD, in uscita il prossimo 20 ottobre e da oggi, 20 settembre, disponibile in pre-order su iTunes http, barra barra apple.co barra 2 home dev. . Con l'acquisto del pre-order su iTunes si riceverà subito come instant gratification il singolo Flowers per pianoforte e Aki, e l'Allegro del concerto per pianoforte e orchestra sinfonica. . L'album uscirà nelle versioni del doppio CD, doppio vinile 180 gr e in una speciale edizione deluxe limitata e numerata, contenente doppio CD, boc fotografico e noteboc Giovanni Allevi. . Su Music First è possibile preordinare in esclusiva le copie autografate dell'album, nelle versioni deluxe e doppio vinile, al seguente link, http, barra barra bit.li barra Giovanni Allevi Equilibrium. . . La originale cover del disco, realizzata dal fotografo di fama mondiale Pierpaolo Ferrari, si presenta, in un ideale percorso da collezionisti, in linea con le copertine degli ultimi album. . . In questo caso il primo piano di Giovanni Allevi appare metaforicamente diviso dal richiamo delle sue due anime, quella più classica e quella più rock, dove la ricerca dell'equilibrium è il filo conduttore, e anche il motore, di tutto il progetto. . . Il nuovo lavoro musicale di stampo internazionale, vede la partecipazione del virtuoso pianista americano Jeffrey Bejel che vanta collaborazioni da Leonard Bernstein a Kate Emerson, per la registrazione del primo concerto per pianoforte e orchestra sinfonica del compositore. . . In Equilibrium Giovanni Allevi mantiene stretto il rapporto con il suo strumento prediletto in tutte le composizioni per pianoforte e orchestra d'archi e per solo pianoforte, mentre illunga. . Bejel è alla tastiera nel concerto per pianoforte e orchestra n.1, sotto la direzione dello stesso Allevi, dopo averlo eseguito in prima mondiale negli Stati Uniti lo scorso 26 agosto. . . La premiere evento nazionale di Equilibrium, dopo la recente anteprima mondiale in America, si terrà il 15 novembre al Teatro Dal Berme di Milano con l'orchestra sinfonica italiana. Equilibrium Deluxe Version, edizione limitata autografata numerata. HTTP, barra barra Beat. Li, Equilibrium Deluxe. . . Equilibrium 2 LP 180 GR, edizione limitata autografata. HTTP, barra barra Beat. Li, Equilibrium Deluxe. HTTP, barra barra Apple. Co barra 2 Home Dev. . 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